Bella raga dal vostro grande capitano Napoli, benvenuti in questo nuovo video, sempre forza Napoli e nella buona e nella cattiva sorte. Appena terminato, Napoli per Perugia, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, e il Napoli come da pronostico, giocando contro comunque una parte di Serie B, ha vinto 2-0 contro il Perugia, con doppio calcio di rigore, segnato il 26esimo d'insigna e il 28esimo d'insigna. Il Napoli con questa vittoria accede ai quarti di finale di Coppa Italia, che molto probabilmente la giocherà con la Lazio allo Stadio San Paolo, perché la Lazio se la vedrà nel pomeriggio alle 18, contro un'altra squadra di Serie B la cremonese. Il Napoli parte abbastanza bene, c'è una mezza buona occasione per il Perugia, il 26esimo venga dato un calcio di rigore netto per un fallo sullo Zano e lo trasforma in signe. 12 minuti dopo arriva il secondo calcio di rigore, con l'inizio dal VAR di Giannello, che praticamente la prende qua col braccio, e il Napoli segue 2-0, sfiora il 3-0, alla fine del primo tempo dal VAR vi ha dato un calcio di rigore, comunque per me è dubbio per il Perugia, perché con Isai in scivolata, scivola Isai, la prende col piede, la palla si impegna e la prende sul braccio. Vanno al VAR, un lungo consulto, viene dato il calcio di rigore al Perugia-calcio, dal dischetto va il bomber della Serie B Giammello con 15 gol finora in Serie B, la tira è grande parata di Ospina che pare il calcio di rigore. Un secondo tempo dove i ritmi sono stati più bassi, il Napoli ha anche cercato il terzo gol, ma secondo me ha giocato un po' al piccolo trotto, mi sembra anche giusto. Cosa importante da dire, a circa mezz'ora dalla fine, esattamente al 62esimo, è entrato Diego Demme ed è andato a sostituire Fabio Ruiz, non ha toccato tantissimi palloni, mi sembra di averne contatti 7-8, insomma hanno cominciato un pochino a fraseggiare, ha cercato di prendere confidenza con i compagni, comunque nulla di più. Comunque facciamo almeno un sorriso, il Napoli batte il Perugia 2-0 e accede ai quarti di finale di questa Coppa Italia. Mettete un bel like a questo video, chi non si è ancora iscritto al mio canale, iscrivetevi, iscrivetevi al mio canale. Auguro una buona serata, dal vostro grande Capitano Napoli, ciao a io.